Amici di Unibet Italia, un saluto da Dario Bersani. Cosa ci ha detto questa serata di Coppe a Vienna? La Roma ha praticamente ipoticato il passaggio del turno, si è sbloccato l'attacco giallorosso che insolitamente, inaspettatamente, si era un po' inceppato con l'Empoli. Subito abbiamo visto questa ripresa da parte della squadra contro un avversario non trascendentale ma ci ha detto anche questa gara, 90 minuti, che è sempre lui a sospingere la Roma. Si sta rifacendo con gli interessi il bosniaco rispetto alla deludente stagione dello scorso anno che adesso è fortunatamente per i giallorossi soltanto un ricordo. Un merito ovviamente ancora di Spalletti, c'è tanto da lavorare, pure i due gol incassati ieri lo dicono ma ci si proietta su questa partita col Bologna, si chiude il segmento stagionale prima della pausa novembrina dedicata alla sosta per le nazionali. C'è Roma-Bologna, stadio olimpico, ore 20 e 45, per me ha ragione Diego, grande Diego Abbandantuolo che ha nella sua schedina inserito uno e over, si aspetta una Roma ancora torrenziale che si confermi tra le squadre più prolifiche d'Europa. 26 gol segnati in campionato, ne ha fatti 12 tra preliminare Champions ed Europa League in 6 partite, la Roma quindi veramente sono tanti. Gira ad alti regimi, si tratterà adesso però di recuperare qualche infortunato perché davvero c'è stata un'epidemia quasi, un'emorragia di calciatori, Spalletti ha sempre più una rosa ristretta. Quindi condividiamo sicuramente l'uno, sull'over vediamo però la tendenza è quella. Dunque adesso bisogna chiudere in migliore dei modi questo tratto di percorso considerando evidentemente la trasferta al Castellani di Empoli come un incidente di percorso quasi fisiologico in questa convalescenza giallorossa, convalescenza romanista così l'ha definita. Mister Spalletti ci aggiorniamo presto, buon campionato a tutti amici da Dario Bersani e un saluto a tutti voi. Ciao, alla prossima.